yukio a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale oggi siamo qui dopo anni meno male da guarda purtroppo una volta era con simulatore adesso siamo con le carte vere è vero siamo tornati con christian in realtà non è vero tanti anni l'ho fatto tipo si sembra passando la vita no è vero c'è anche virtual world che non è mai uscito virtual world perché non abbiamo mai fatto anche perché ho perso il file ma ho già ragione sei stupido siamo tornati con christian che ci ha portato la sua deck profile di flammerisa aggiornata bello post bannet perché è cambiato un sacco un bel po è sempre uguale sono più forte però perché hanno tolto l'araldino quindi se ti arse becca shifter ha perso poi c'hai più fissure puoi mettere tutte le fissure che vuoi se vede che sei stupido perché non la giochi di main fissure soprattutto no vabbè nel senso puoi anche giocarlo dei side ma è scarsino le side in realtà infatti ci ho pensato lo side però vabbè ormai la lascio così tanto finché vince sta bene nel senso c'hai c'hai i 3 shifter prima adesso c'hai la possibilità di giocarne fino a 9 potessi giocare questa fino a 9 dove sta questa fino a 9 ragazzi detto questo vi ricordo come sempre che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da magic corner quindi se vi serve il prodotto sigillato card singola trovate il link del loro store qua sotto in descrizione in più se volete liberarvi come fa lui di cartellini di magica e pokemon anche se non ha voluto da rai e one piece dragon ball o digimon trovate il briscola tutto 37 trovate il link del mister che è un passaggio in descrizione scrivetemi mandatemi le foto e nel caso se ne può parlare detto questo vi lascio la parola a lui e io me ne vado fai va il cazzo forse dobbiamo aprire questo e dai dai ho convinto l'ho convinto intanto inizia a controllare cosa si può trovare a flander is a best deck bellissimo sono innamorato di sto mazzo purtroppo ho lasciato a casa del cappello per tre giorni infatti non mi udierà non mi girerà più dopo questo però non aveva fatto l'abitudine dopo però fanno l'anno dei pro no no non ce lo voglio ah dicevo flamma sto cazzo di merda davanti non posso manco il braccio allora flander is best deck bellissimo partiamo con i mosti non è troppo da dico sto mazzo comunque sia devo mettere così davanti quindi no? si ah perfetto allora tre robina ehm di cosa fa? se la vedi avete vinto però è fortissimo allora eh tre a vabbè questo va comunque facciamo i seri reparto flander abbastanza standard non c'ha senso giocare più di questi qua e loro a tre ovviamente per forza di cose per i tributi allora io ormai sono innamorato di doppio empen è veramente fortissimo riesce a risolverlo anche due volte per turno è veramente veramente grosso c'è poco da dire mono raiza allora eh io sono stupido ma doppio raiza non mi piace nonostante se ci milano raiza con gli shizu è un problema ehm a me doppio raiza fa veramente veramente schifo mi prenderò tutte le critiche ho il cappello mi prenderò tutte le critiche per questo però a me doppio raiza non piace mi piace invece molto di più eh aviano perché ehm soprattutto adesso ovviamente diciamo anche le cose come stanno questa lista qua non è una lista improntata contro tier io ho giocato una lista improntata contro tier e funziona contro tier ma contro tutto il resto del match secondo me prende gli schiaffi è un po' più generica infatti l'aviano è molto 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 forte in mirror match mirror match se mette aviano ehm a turno uno non ti dico che hai vinto la partita ma siamo lì perché andare a negare ehm a terreno quindi lui gioca con una normal fondamentalmente è veramente forte al posto del doppio raiza ho voluto mettere la doppia statua anche qua mi prenderò tutte le critiche secondo me ma un po' di questo è un po' più meno contestabile perché doppia statua è veramente veramente forte vorrei dire una cosa sai quanto sta statua da gold? eh? quanto l'hai pagata te? boh centesimi l'hai regalata forse sta 5 euro pensa te questo fa capire quanto è forte eeehm non è tanto allora statua è forte in generale la cosa più forte però di statua è il fatto che la seconda non se l'aspettano o se se l'aspettano anche se se l'aspettassero comunque non si è ben preparati alla seconda statua quindi tirare la seconda diciamo a sorpresa è veramente forte c'è poco c'è poco da stare a dire ovviamente queste qui non sono la carta più forte del mazza la carta più forte del mazza è questa cioè il mazza è shifter turbo se riuscimo a farlo c'è poco da dire unica end trap è fortissima mmm non c'è troppissimo da dire su questo per quanto riguarda invece le spell sono un fottio ok allora ovviamente chi l'avrebbe mai idea 3 terreno 3 rapide e monocontinua per chi non lo sapesse ma penso che ormai lo sanno tutti la continuo ti fa vincere il mirror match di flander ma comunque non la togli dal mazzo in ogni caso loro due vanno a beitare cioè a beitare vanno a evitare end trap e la terreno ti dà vantaggio e tutto quanto non c'è neanche troppo cioè sulle carte flander diciamo che non c'è tanto da dire in realtà oh eccoci qua allora io ho deciso di giocare 3 desire non ne so sbagliato 3 prosperity 3 duality e 2 extravagance gioco 8 pod secondo me è il numero giusto danno una buonissima stabilità al mazzo certo prosperity ed extravagance insieme a volte cozzano però come dicono i saggi se le vedete entrambi in mano dipende allora game sti saggi strani no i saggi sono quelli che giocano bene flanderis non io allora fondamentalmente va così game 1 se vedete 1 e 2 i partiti primi tiri prima prosperity perché è oggettivamente più forte di extravagance game 2 se sapete volato se sapete che il mazzo gioca ht si tira prima extravagance perché magari può abitare un hash dopodiché si va di prosperity poiché se extravagance non risolve prosperity può risolvere appunto e che altro da dire su questo ah giusto extravagance è uno slot da cattare dopo side cioè dopo side extravagance si catta il 90% delle volte io la catto quasi sempre e non mi sono mai trovato male con questo numero di pot comunque sia cioè comunque è veramente raro il fatto di trovare loro in mano insieme di primo turno è veramente veramente raro ah devo dire anche un'altra cosa questa lista a me non mi ha briccato praticamente mai cioè due volte in due mesi che l'ho praticamente è veramente molto molto stabile come altre spie vabbè dark ruler e terraforming dark ruler vabbè secondo me dopo cioè anzi non dopo insieme a divelli è la carta più forte del meta è veramente veramente forte terraforming nonostante non ci sia più mina quindi non è che sia così tanto versatile come prima che o vai prenderti la terreno o vai prendere mina terraforming rimane il fatto che sia una quarta copia in più di terreno tu con la terreno ci devi partire quindi terraforming secondo me è comunque un must dentro questo mazzo le immagini sono finite perché hanno bannato mina altrimenti c'era mina di main trippa divelli divelli è veramente fortissima il mazzo diciamo che non ha mai problemi andando primo a meno che cioè il più grande nemico di flander è se stesso perché se bricca è un problema però andando primo anche se la si vede in mano divelli ma si vede comunque la start non importa avere un palo in mano mentre invece se si fa second avere sia divelli che dark ruler che shifter sono tre carte che vanno ad annientare la board shifter diciamo che poco fa vabbè è inutile contro flander ma non c'è neanche bisogno di dirlo fa poco male a come si chiama a sprite fa malissimo a runic all'engine runic si non ho detto vabbè no quello è sottinteso dicevo a cosa non facesse male vabbè ok si ovviamente ovviamente fa malissimo a tier ma in generale anche a quasi tutti i rogue fa male shifter dark ruler stoppa la board evil invece va a baitare potenziali omni negate o o comunque smantella la board dell'avversario quindi non vedo motivo per cui non giocarla è fortissima non c'è niente da dire e vabbè è trapporina del d'archetipo perché must cioè anche qua il mazzo si spiega da solo parlano i fatti allora aside che sto giocando attualmente ci sono delle parti che mi convincono altre che mi convincono un po' di meno dirò quali mi convincono e quali mi convincono un po' di meno allora 3 cyclone veramente veramente forte questo mazzo ha problemi di solito contro floodgate comunque in generale va a levare potenziali minacce può togliere la cioè la può tirare in catena per reino poi è forte contro la terreno dei dei runic poiché non hanno protezione a questa perché di solito ti fanno sempre ungin non muggin quindi muggin è quello che protegge da target e ungin questa qua gli piscia in testa quindi ciclone cosmico per me è un must in tutte le side è veramente fortissimo c'è chi può permettersi tu in twister noi non possiamo permettersi tu in twister perché se scartiamo uno ci facciamo un bel danno secondo me quindi ciclone cosmico è la carta migliore allora io mi vuole ammettere lo dice cappello però fissure la gioco effettivamente e ne gioco due diciamo che ovviamente è solo di side non si può giocare di main fissure perché certo si è fortissima contro tier grazie ma anche contro tutti i mazzi che utilizzano il cimitero soltanto che se la si vede di primo è forte perché appunto la tiriamo e l'oppo non gioca col grey ma caso contrario se andiamo secondi peschiamo questa contro un tier partiamo fondamentalmente con una carta in meno non è assolutamente utile andando second andando primo ci sono partite in cui ne metto due partite in cui ne metto uno dipendentemente dal matchup contro tier ovviamente se ne mettono due perché la vedi e vinci cioè c'è poco da dire possono trovarti l'out è vero ma dove cavolo stanno i mostri appunto per quello c'è Aviano che va a proteggere fissure dall'out sia fissure che necrovalle necrovalle nonostante metaverso stia uno a tre sbagliato io comunque gioco una più copie di necrovalle non mi fanno impazzire ne basta una tanto quando la tiri la siddi quasi sempre solo contro tier quando la tiri diciamo che sta a pecora lui cioè c'è veramente poco che possa fare l'unica out che ha è la spell rapida se la millata non so quante out possa avere se non la millata c'è Aviano diciamo che necrovalle protettato Aviano è quasi sempre game contro contro tier per portare necrovalle e anche come out a mondo zombie mi sono scusato di dire questa qua toglie mondo zombie ovviamente ma come out a mondo zombie per portare necrovalle set rotation è veramente fortissima se sidiamo sia necrovalle che set rotation set rotation è una doppia utilità sidiamo sempre ovviamente quando andiamo contro tier se vogliamo avere una giocata più consistente vogliamo quindi prenderci la terreno possiamo dare necrovalle a lui e andare a mettere il terreno a noi caso contrario mettiamo la terreno flander a lui e noi ci prendiamo necrovalle ovviamente se abbiamo la start perché se no abbiamo la start insieme a questo decide colled e spolverino che qui dentro perlomeno in flander non ha più senso giocarlo di main non essendoci più mina quando c'era mina spolverino era un must di main secondo me in tutti i mazzi ora come ora soprattutto in flander che comunque ha svariate out e oddio svariate ne ha una e a minacce spolverino va bene di side non c'è bisogno secondo me di giocarlo di main colled è forte ma abbiamo tanti abbiamo visto appunto le tre terreno terraforming tre magie rapide i flander che appunto si incatenano l'uno all'altro andando a bloccare i potenziali hash secondo me colled giocare ht come può essere sprite come può essere sky striker e o comunque appunto evil twin con gli sprites se qualcuno lo giocasse ma appunto di side di main può essere un brick veramente pesante come trappole il mio reparto preferito prima giocavo tre solenni e tre di questa ma ora ho sconabbiato a tre di questa qui e tre trap trick trap trick è fondamentalmente tre coppie in più di lei flander diciamo che parte ovviamente si siedono andando primo non c'è manco bisogno di dirlo e se mettiamo la nostra lock più questa l'avversario è sicuro al 100% che non può giocare il turno dopo c'è tk questa carta a mio avviso è la carta più sbagliata di flander cioè se dovessero toccare qualcosa potrebbero tranquillamente lasciare shifter tranquillamente lasciare statua la carta veramente più sbagliata è questa che si no assolutamente assolutamente no però è vero ammazza il mazzo però si e certo si è di side quindi diciamo che il game 1 non è compromesso da questa però ragazzi questa carta è veramente 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 forte cioè quando la si tira 90% delle partite hai vinto cioè o l'avversario ha un comeback assurdo ma veramente assurdo oppure cioè ragazzi questa carta ferma il turno cioè c'è poco da dire è come avere una copia in più 6 copia in più di shifter praticamente solo che è più forte a mio avviso è più forte di shifter di gran lunga shifter è forte per giochi di main perché ne entra per la scarti rapida ma questa è veramente veramente la carta più forte di flander la side finisce qui spero siano 15 sono molto sincero perché non lo contate no massimo 14 3 6 9 12 15 sono professionale è l'extra che adesso è un po' l'extra invece se ne so 6 tipo allora l'extra di flander l'extra di flander è bello senza fratelline diverse senso sincero non lo avevo neanche montato l'extra di flander perché di solito quando è il momento mi prendo una goddess mi prendo uno zeus una downerd e un usignolo assemblato quello lì il rang 1 dei liriusk e mi basta diciamo che appunto le cose dei must secondo me sono goddess per togliere i tower come può essere che ne so come si chiama arrival il sincron di era nera se qualcuno giocasse alla nera e comunque diciamo che contiamo il fatto che se qualcuno ci mette un mostro immune più grande di 2009 cioè da 2009 in su noi non lo togliamo è impossibile togliere a meno che con questa quindi questa carta qui è obbligatoria tanto l'extra di flander non è stretto e questa carta ci va c'è poco da dire io ho giocato sempre diciamo quando li avevo doppio zeus doppia downer e doppio liriusk non tanto perché ne servano due ma perché di extrava vuoi che ci sfiga e banni uno uno oppure cioè uno di loro hai sempre l'altro diciamo che appunto con prosperiti te le scegli le carte che banni con extravaganze c'è il rischio che puoi bannarti uno di questi quindi secondo me giocare il 2 per di tutti e tre ha senso altra carta forte che mi sono scatto di chiedere a cappello è relinquish d'anima anima abbandonata il link 1 che frega il mostro perché appunto in casi disperati si può bravo bravo prendila si può andare a rubare il mostro dell'avversario ma quando si fanno giocate del genere la maggior parte delle volte la partita è molto molto compromessa l'unico spot che vedo forte con relinquish d'anima è quando l'avversario è stupido e gioca babusca davanti alla zona extra in quel caso è molto forte eccola eccola diciamo che tutto il resto è un misto di link si può giocare cerbero si può giocare si cerbero si può giocare phoenix nightmare si può giocare certo hatches code unicorn diciamo link perché tanto il resto non è che ci sia troppo si può giocare mio padre un attimo ce l'ho qui dentro come portafortuna si può giocare mio padre se non vogliamo giocare il 2x di questa fortissimo lui dico anche cosa fa questa carta dice che è immune agli effetti quindi è fortissima cioè già è di base è fortissima e in più diventa indistruttibile in battaglia non si vende danno d'effetto se si stacca due materiali fondamentalmente è Zeus cioè Zeus assicurato diciamo che tutto il resto appunto dell'extra sono carte che verranno macinate da prosperity ed extravagance non è che ci siano delle cose must secondo me oltre queste non c'è troppo altro diciamo da dire un bel incurivo ma metti l'incurivo cioè se ti fa piacere mettiamo l'incurivo però generalmente le carte forti sono queste altro da mettere sta un po' a voi cioè io addirittura di solito io di solito gioco con loro 3 letteralmente carte a caso la carta è a caso e il mazzo vince per far capire che l'extra si ci sono degli spot in cui puoi tirarlo ma è veramente veramente l'1% delle volte c'è da dire che appunto lei toglie tower sono scusato di dire mentre i zeus è veramente utile lo si fa sempre quando ci mettono il zombie world e noi riusciamo a togliere il zombie world in quel caso si fa di terreno normal pezzo non facciamo l'effetto effetto terreno altro normal pezzo si fa lei si attacca direttamente downer zeus e si toglie e si toglie zombie world questa è l'utilità di zeus oltre al fatto che vabbè certo è zeus e la deck profile finita qui e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuta lo so che è una deck list abbastanza standard si si vabbè ce ne stanno 6.000 non ci sono troppe robe da dire di flunder la lista è sempre quella la cosa che può cambiare al massimo è la side si può giocare che ne so lightning storm al posto di di cyclone se qualcuno è pazzo e no ma era un modo per dire ce ne sono tante però venite a vedere la nostra si si certo la nostra la mia il canale è mio la nostra è come il meme di Bugs Bunny è come il meme di Flander il tuo turno è il nostro turno ma questo va non può avere un sacco di mazzi si ma Flander in particolare con la norma non interagisci però anche Tier con gli shizu ciao ragazzi ciao